La unità assoluta, 10 risulta a 100, è alla origine della constante Planck. Questa quantità si deve moltiplinare a 1 seconda e diventa 10 risultati a 101 J per seconda. Questa quantità è un volume, avendo 10 risultati a 66 come fronte e 10 risultati a 65 come linea di aczione dei jowli. Ma essendo due poteri, ma uno di loro deve essere in opposizione, 10 risultati a 66, metterà in opposizione per il decimo logaritmo e il risultato è 66 x 10 risultati a 65 J per seconda. Questa quantità è? Questa quantità ti mostro per il decimo. Qui vedo il vecchio d'un giorno, un minuto, un minuto, un'attività e il metro erano da 10 risultati a 100. che mi mostro solo la mia calcolazione e voi potete capire anche se non faccio la mia e il sidral Yr2 derivi di questa quantità Grazie a tutti